L'Oasia Lento rappresenta un'eccellenza territoriale dove il patrimonio ambientale è messo in grande risalto. Queste le dichiarazioni del Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, Tommaso Pellegrino, nel visitare la struttura turistico ambientale di Prignano Cilento, che continua a collezionare consensi e apprezzamenti dai visitatori e ospiti che di anno in anno aumentano in modo esponenziale. Penso che le realtà come l'Oasia dell'Alento, che sono delle realtà assolutamente virtuose, assolutamente belle dove il patrimonio ambientale è messo in grande risalto e soprattutto mi fa piacere evidenziare un aspetto. Io faccio sempre l'esempio dell'Oasia dell'Alento come il modello dell'ambientalismo del sì, il modello di un ambientalismo che è capace di preservare, anzi di valorizzare anche i luoghi che hanno un pregio come quelli nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, ma intervenendo e rendendoli ancora più belli e rendendoli soprattutto fruibili a tante famiglie che io invito a venire a visitare l'Oasia dell'Alento, perché qui i nostri figli e le nostre famiglie possono trovare un luogo straordinariamente bello ma naturale dove è possibile riconciliarsi con la natura. Molto spesso Presidente, un po' per propaganda politica, un po' per pubblicità insomma, utilizzano alcuni personaggi, diciamo così, notizie false. Che danno possono portare queste informazioni, chiamiamole sbagliate, al territorio? Le fake news purtroppo comportano gravi danni dovunque, a maggior ragione quando si tratta di territori di pregio come il nostro, perché lanciare delle fake news significa danneggiare, perché poi purtroppo con i social le facilmente vengono replicate e vengono diffuse e una fake news diventa una notizia danneggiando notevolmente non soltanto un territorio intero, ma danneggiando l'economia di quel territorio, danneggiando l'impegno e i sacrifici che fanno tanti in quel territorio. Io voglio fare una riflessione, quanti sono gli operatori e quanti sono le famiglie che vivono con il turismo? Quanti sono le famiglie che vivono grazie a quell'economia generata proprio da un flusso turistico nei nostri territori? Quanti sono le famiglie che hanno investito in territorialità, cioè quindi aziende che investono nel territorio? E sono tantissime. Andare a dare notizie sbagliate significa danneggiare irrimediabilmente l'economia, un settore straordinario, fondamentale del territorio nel quale viviamo e non ce lo possiamo permettere. Allora le notizie devono essere giuste, circostanziate e ripeto, laddove ci sono degli atti delinquenziali, io sono un ambientalista nato, quindi sono il primo a dire che noi dobbiamo elevare la soglia di attenzione, sono il primo a dire che dobbiamo stare attenti a tutto quello che succede e denunciare quello che succede nei nostri territori. Io penso che ancora la nostra territorialità è un valore forte, è un valore importante, è un valore che produce economia, è un valore che mette in condizioni tanti giovani anche di guardare ai territori nei quali viviamo per imparare i propri investimenti e per costruire qui le proprie famiglie.